Musica Neanche ragazzi Neanche stasera è arrivato il Principe Azzurro a fargli un massaggio collo e spalle Ma come si dice Se la montagna non va da momento Il momento va dalla pittagna, no? Quindi, ma perché non farci un bel massaggio fai da te? Non abbiamo bisogno di nessuno, solo di una sedia e di noi stessi Quindi, pronti per farci il massaggio spalle e collo Ci sediamo su una sedia, potete farlo tranquillamente anche in un piccio Schiena dritta e iniziamo con delle piccole rotazioni della testa Inspirando dal naso e buttando fuori l'aria dalla bocca Pianta e non pianta in un verso e poi cambiamo nell'altro Sempre mi raccomando schiena dritta, muovete solo la testa, spalle e giù Ritorno al centro, fletto un po' il capo in avanti E poi con movimenti controllati e lenti Vado indietro senza però schiacciare la zona cervicale Un po' di volte, mi raccomando, lenta Ritorno al centro, metto la mano sull'orecchio Lascio cadere la testa di lato, spingo bene con la mano E per sentire maggiore stretching, infilo l'altra mano sotto la sedia E spingo, vi assicuro che lo stretching del collo lo sentirebbe forte e chiaro Sempre respirando, cambio braccio, cambio mano sull'orecchio Spingo, incastro l'altra mano sotto la sedia Ritorno al centro, mani dietro la nuca Chiudo il gomito, lascio cadere i gomiti verso il basso Schiena dritta E spingo per allungare la cervicale Ritorno al centro Adesso occupiamoci un po' delle spalle Ci siamo occupati del collo Spalle su, inspiro E buttando fuori l'aria Giù, giù, giù Le schiaccio giù verso il basso Ancora inspiro, porto il più possibile le spalle alle orecchie E poi fuori l'aria giù Ancora un po' di volte Vado, inspiro su, 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 su E fuori l'aria Spingo giù Bravissima Per finire allungiamo il braccio destro Incrociamo con l'altro E spingiamo, spalla giù Spingiamo con l'altro Con una leggera pressione I bracci Baccio dietro Sempre respirando Facciamo un po' di volte E poi cambiamo Allungiamo il braccio Croce con il destro Questa volta Leggera pressione Spingo Sempre allungando E cercando di mantenere la spalla giù Perfetto Sentite, io il principe azzurro sicuramente anche per stasera non l'avrò trovato Ma chi se ne frega Ci siamo fatti un passaggio Spalla e collo Da soli Ma di cosa abbiamo bisogno? Di nulla Solo di qualche minuto per noi Ciao ciao